Si è tenuta questa mattina presso la sede della Fondazione La Scafa di Eboli la conferenza stampa di presentazione del VII Festival Internazionale della Chitarra. L'evento si svolgerà il 6, 7 ed 8 luglio nel chiostro del complesso monumentale di San Francesco. Cosa collega idealmente la Via del Grano al Festival delle Chitarre? Ecco, collega perché la Via del Grano è una grande strada di comunicazione. In effetti noi chiamiamo la Via del Grano perché è un appellativo al reggio Cammino di Matera. Questa strada che collega ovviamente 53 paesi fu costruita nel 1797 a seguito di una crisi economica. Quindi noi abbiamo voluto collegare la Via del Grano alla grande via di comunicazione perché su questa strada di comunicazione sono passati anche gli artisti e il compositore che dalla Puglia e dalla Basilicata andavano a Napoli al Teatro San Carlo. È la musica al centro, nel cuore della città, con il Festival della Chitarra che ha avuto un grande riscontro anche nella location che abbiamo individuato dallo scorso anno che è nel chiostro del complesso monumentale di San Francesco. Questo è ancora più bello, ancora più affascinante, con vestiti d'epoca, con rivisitazioni storiche, con dei musicisti di eccellenza, con dei premi importanti che dire ancora una volta la città di Eboli dimostra di mettere al centro della promozione culturale la valorizzazione anche delle nostre realtà locali perché tutto ci avviene con l'associazione della via del Grano con Peppe De Plato e Damiano Faccenda che sono i autori di un percorso avviato tanti anni fa e che stanno continuando e stanno portando avanti alzando sempre di più l'asticello della qualità culturale. La via del Grano è stato un bacino culturale nel Settecento incredibile che ha formato la cultura musicale in tutta Europa. Per cui ecco la nascita dell'associazione La via del Grano e dell'orchestra La via del Grano, l'associazione che è nata vent'anni fa, orchestra che è neonata. Questo col padrocino del comune di Eboli e con i padrocini morali dei comuni di Colliano, Valva e Contursi. Sicuramente vuol dire un evento di grande spessore storico-culturale che viene tramandato nel tempo e da quest'anno questa grande opportunità di mettersi in silievo attraverso una serie di eventi nei quali si è coinvolti i comuni, le associazioni del luogo, cioè di Eboli e dei comuni facendo parte della via del Grano.